I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Canicattì durante un servizio di controllo nel quartiere Borgalino hanno trovato due involucri contenenti droga, precisamente 42 grammi di eroina occultata sotto le lamiere di una recinzione. Lo stupefacente si presentava già suddiviso in 25 dosi per complessivi 7 grammi. I restanti costituivano un pezzo unico ancora da tagliare. Dalla droga sequestrata sarebbero state ricavate 150 dosi presumibilmente destinate all'illecito mercato local.